Lì della Trinità sono a prato. Ho saputo che hanno portato rinforza. Gli starò alla larga. Meglio evitare che si ripeta quello che è successo con l'altra cellula. Sapranno che siamo stati all'altro settore. La seratina tranquilla. Ma dove è andato, Dominguez? Non può essere. Deve essere in comune. Già. Diamo un'altra. Qualcuno saprà dirci qualcosa. Mi prontola lo stomaco con tutto questo cibo. Lo sei prestito, butto a mangiare. Avanti, su, assaggiati. Che profumino. Ah, ora lo provi, il tempo di... Mi sto ambientando. La gioventù è sprecata. Così dicono, non è il mio caso. Io posso dire di essermela spassata parecchio. di essermela spazzare. Qual è il suo problema? Ma ti rendi conto? L'abbiamo beccato che beveva leofrenos. Oh mamma, anch'io da bambina ero di scola come lui. Non c'è bisogno di bui. Non sarà la bella? E' anche buona un bel po'. Guarda, è per mio padre. Forse potrei accenderne uno per mia madre. Non sono abituata a tutta questa gente. E gli oli mortali o gli... No, va bene così. Hai fatto un'ottima impressione sui locali. E' un bel posto. Eh, bravaci. Cos'è? Ho fatto sorridere prima dalla fiora. Le dalie erano i fiori preferiti di mia madre. E' tutto così colorato. Mia madre avrà adorato questo posto. Che torna in mente quella volta che inseguitavamo quel professore in giro. Com'è che si chiamava? Eh, Barakat. E chi potrebbe dimenticarselo? Mi scusami, signorina. Trovo qualcuno che vende biscotti già. Beh, sarebbe un po' strano in Messico. Eh, nel caso. Sì, grazie. Prendimeli. Forse dovremmo accendere gli aceri. Buona idea. Anche per Jacob. Ah, guarda che gioielli. Ne avevo una identica a questa. Ci andavo ovunque. Quando hai smesso? A Yamatai. Sta succedendo di tutto. Vorrei tornare qui con un po' di tranquillo. Mi interessa qualcosa? Do un'occhiata. Sei inglese. Dovresti portarti a casa un souvenir. Mi spiace, Juan. Ha già fin troppi souvenir. Ok, John. Come fai a conoscere tutti? Si, bravo. Ogni tanto dovresti provarci. Lancia! La tua sede! La tua sede! Dio, maniasi arrivi. Dio, maniasi arrivi. Non devono sentire. Credo ci sia un altro modo per scavalcare A loro ci penso io Ehi ragazzi, come va? Bene, ma da qui non si passa Mi hanno detto che c'era un bel festino Delle pollastre toccate da testa Voi non ne sapete nulla Non è un posto per turisti Sì, ma sai, è Maria che mi ha invitato La conoscete? È mia cugina La mia avvuela era di qui, anche se non sei Io volevo fare un'offerta Cosa fate con le lezioni? Ok, fa niente Vedo che siete impegnati Non vi farò perdere altro tempo Buona giornata Grazie per il vostro prezioso lavoro Ciao Jonah, ci sono Va bene Quelle guardie prima non c'erano Dominguez deve sospettare qualcosa Permesso Ho preso contatto con l'Alto Consiglio Comandante Sì, signore Anche dopo il fiasco in Brasile Nessuno dubita della sua leadership in organizzazione Ormai andiamo fino in fuori Sì, signore Sì, signore Siamo pronti a tutti Scusate Jonah, Dominguez non è solo il leader di questa cellula Credo sia il capo della Trinità Facciamo attenzione Clara Sì, sì, ho capito Disculpe Colpa mia È scattata la trappola nel primo signore Vediamo sia stata corte Aspetta Che c'è? Voglio conferme, comandante Basta tirare e dominare Ho in modo di avere conferma visita Jonah, forse mi hanno visto Provo a passare dal vicolo Io troverò un'altra strada Sì, sì, è scattata Grazie